L'annuncio è quello dello sciopero della fame a partire dalla mezzanotte di oggi. A farlo sono i rappresentanti dei radicali abruzzesi che protestano contro il non rispetto della volontà espressa con il voto a favore della fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. La grande Pescara resta un'utopia. Dunque ci troviamo dinanzi alla maggioranza dei cittadini di Spoltore, di Montesilvano e di Pescara che chiede di fondersi in un unico comune. Io ritengo che questo referendum, benché nato con finalità consultive, oggi abbia una valenza che è politicamente invece obbligatoria, vincolante per il Consiglio regionale. Naturalmente alla politica resta la facoltà, direi l'obbligo, di determinare in che modo questa fusione dovrà essere regolamentata. Ma sulla circostanza che i tre comuni debbano fondersi, credo non si possa più procrastinare la scelta. Una grave mancanza di democrazia spiegano i radicali che annunciano lo sciopero della fame ad oltranza fino ad un concreto intervento della Regione. Si è arrivati vicini alla decisione, adesso il provvedimento è tornato in commissione, sperando forse di rimandare alle calende greche la definizione della faccenda. Noi riteniamo che non si possa più aspettare, non si possa più tollerare. La democrazia non può aspettare, non può soprattutto essere presa in giro la volontà dei cittadini. Ha detto che sarà uno sciopero della fame ad oltranza, quindi chi dovrà intervenire per bloccarlo? Dovrà intervenire il Consiglio regionale approvando, come le dicevo, o comunque dando un segno concreto in quella direzione, questo tipo di provvedimento.